Gemma Galgani e Marco sono in crisi. Anticipazioni di uomini e donne La mattinata per Gemma Galgani è iniziata, come di consueto con il suo buongiorno sui social. Una cosa attira l'altra è la vita. Queste le parole della protagonista del Tronover di Uomini e Donne che ieri ha pubblicato un messaggio ambiguo sui social, scrivendo. Un messaggio indecifrabile quello della 68enne di Torino che in queste settimane ha aperto le porte con piacere a una nuova conoscenza, quella con Marco. Il personal trainer toscano è arrivato a Wade appositamente per corteggiarla, sottolineando di aver atteso un anno e mezzo prima di arrivare in trasmissione, per trovare il momento giusto e aspettare che Gemma chiudesse le sue storie. In questi giorni però il rapporto della Galgani con il nuovo arrivato potrebbe essersi complicato. Come mostrato da un video di Vittip pubblicato sulla pagina Facevoloti di Uomini e Donna, Giorgio Manetti avrebbe minato nuovamente la storia di Gemma e Marco. Uomini e donne. Gemma Galgani delude Marco per colpa di Giorgio. Le anticipazioni di Uomini e donne svelano che la puntata di oggi pomeriggio dovrebbe essere dedicata al Tronove. Dopo la scelta di Nilou Faradati di ieri e l'ospitata di Giulia Dell'Elix, Maria De Chilippi darà nuovamente spazio alle vicende sentimentali della 68enne di Torino. Gemma e Marco racconteranno di aver trascorso dei piacevoli momenti insieme. Il personal trainer sembrerà intenzionato ad andare avanti nella conoscenza, ma verrà turbato da Giorgio Manetti. Il 60enne toscano siederà accanto a Marco, proprio di fronte a Gemma Galgani. Giorgio chiederà infatti un chiarimento con l'ex. Il modo di fare della Galgani e l'aver accettato il confronto con Manetti non verrà gradito da Marco, che lascerà allo studio. Il cavaliere si confronterà poi con la Galgani durante un ballo, ma le cose non sembreranno migliorare. Contro Gemma si schiererà, anche Maria De Chilippi, che giudicherà senza senso le mosse della dama. Insomma, l'ombra di Giorgio Manetti continua a farsi sentire, minando la serenità, e le nuove storie sentimentali della Galgani. Già nelle scorse settimane Gemma aveva ammesso che il ballo durante il Maurizio Costanzo show con l'ex non l'aveva lasciata indifferente. Ora il nuovo avvicinamento tra i due, potrebbe aver allontanato del tutto Marco. .